Non è colpa mia se siamo in ritardo, cioè se sei in ritardo, quindi io ho la modo più figa della tua, stai zitto. Ciao mamma! Momento, 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 momento! Ma partiamo dall'inizio, prego Peter. Lois, questo non è il mio bicchiere di Batman! No! Dai! 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 Perfetto danny fammi salutare la telecamera danny salutate ciao belli muaah ha gaiiii lulu lulu la telecamera lulu 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 Sì, 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 sì Aspetta, aspetta Aspetta, vai Aspetta, aspetta Male da sbucciatura? Qua credo male da sbucciatura Qua non lo so Cioè ho preso una botta qua Ragazzi chiamiamo un'ambulanza Ambulanza non lo so Ehi, tanto vengono, ti guardano Se non sei rotto ti rimandano a casa Se non ti guardano a fare il controllo Magari la moto Tiro la la Va bene, metto la Da guidatore di 690 A Poletti Apertamenti fisiosanitari Sono incastrato dentro Ma te l'ho fatto guidare? È mia Ma sì, frate, la fa nuova Vabbè ragazzi Titolo clickbait a bellaggio Giardini di Villa Melzi Vai, vai, Villa Ci sono due tipi di motociclisti Chi deve cadere e chi è già caduto Quindi il resto lui è passato dall'altro lato Ha fatto bene Chi di voi? Vale da fermo Non lo so, proprio da... No, è da fermo L'ho fatto in garage una volta E poi basta Io da fermo mica Eh no, da fermo no Eh ma non vale Io un tamponamento lo faccio Mi erano così Quando sono stato sguardo all'ospedale Mi erano così Ma dai Sarbattoio? È venuto a cuore Cioè io l'ho lasciateli tutti sul sarbattoio La mia prima domanda al dottore Mi faccio Ma funzionerà ancora? E vai, quando si sgonfia lo provano Ciao Jack Cosa è successo qua? Non vi spoilerò niente per il video di YouTube Però Ciao Shrek Sono un orco Ma come ricordo ci sta Fammelo vedere Passa Beh ci sta Come monitor Ti guardo? Ma non ci metto un po' da attack? No, vai Ma vai Ah ma manca un altro pezzo comunque Oh forse si è stortato qua Bruh che freddo qua Si ma No manca un altro pezzo Non ci vuole manca di brutto Ah no manca tutto sta pezzo Ma questa no Il gommino è lì per terra comunque Dove? Eh lì dove è scivolato Oh vabbè Non è che c'è una curva di quale l'abbiamo fatto prima Che dice Ma ha detto che ha fatto così Mi ha sempre spiegato Luca Quella roba lì è il chattering Vuol dire che la gomma Fa tac 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 Cioè Essendoti quindi scesa Eh non c'è l'antisaltellamento No 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 Non è che c'è l'antisaltellamento Cioè salta la gomma Ah ok Quindi non fa da renza Sento sempre Oh il chattering Fa brutti scatti Vabbè niente dai Non si è fatto niente Dai Ragazzi Mi fermo E' facile E' facile E' facile E' facile